ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale e non il mio nuovo video oggi andiamo a cucire insieme questa bellissima maglia il modello l'ho preso da carta modelli magazine taglie forti vi ho fatto anche il video dove ho diminuito la taglia quindi questa è una taglia più l'ho fatta diventare una taglia 44 il modello è stato preso da questa rivista di carta modelli magazine taglie forti che potete ordinare direttamente nel sito questo è il modello che ho scelto per realizzare la mia maglietta il modello è questo quindi blusa rosso granata al numero 25 che è stata in questo caso realizzata in seta o viscosa l'ho voluta lasciare così morbida perché mi piace moltissimo proprio a casacca ho utilizzato un cade elasticizzato molto morbido come vedete ma potete utilizzare anche altri tipi di stoffe anche più leggeri rispetto a questo che rimane un po pesante perché il volante doppio messo al doppio e risulta un po pesante ho fatto delle modifiche riguardanti lo scollo infatti fa un po di difetto come vedete qui perché l'ho rifatto quando la maglietta era già pronta perché rimaneva troppo accollato quindi se lo volete fare scollato modificate direttamente la carta modello io l'ho dovuto fare direttamente sulla stoffa per non buttare la stoffa perché rimaneva troppo accollato che mi dava fastidio se volete vedere il tutorial e mi farà molto piacere lasciate un commento iscrivetevi al canale e mettete un bel like e condividete i miei video con i vostri social nei vostri social per aiutarmi a farmi conoscere a far conoscere il mio canale spero che il video vi piaccia asibiri e buon cucito e buon tutorial ciao questo è lo schema di come dovete mettere la vostro carta modello per il taglio quindi questo lo schema per il taglio eccolo qua quindi ci sono varie parti parte 1 la parte 3 la parte 6 4 5 e la parte 2 ho tagliato la stoffa e la parte di dietro della stoffa e la parte davanti intero una per una volta al centro davanti ho messo il centro davanti questo è la ripiegatura della stoffa lo stesso quindi il numero 3 e il dietro intero una volta il davanti interno cioè intero una volta nella stoffa poi ho ricavato i due fianchini il fianchino davanti due volte è il fianchino dietro due volte che il numero 4 quindi ho messo nella stoffa tutti e due i fianchini dovete ricavarvi la manica e anche il gatto no il gatto no il gatto è mio la manica che il numero 5 e poi dovete ricavarvi i due vola quelli al centro che sono questo due volte nella ripiegatura della stoffa quindi io ho ritagato nella stoffa qua quindi tutte e due eccoli qua uno l'ho già tagliato ho anche tolto ho dovuto ricavare dalla seconda anche questo cartamodello ho passato in tagli e cuci le spalle tutte e due le spalle potete anche non passarlo in tagli e cuci e diciamo aria non è molto d'accordo passarlo a macchina con le cuciture aperte io ho voluto farlo in tagli e cuci per fare prima ho cucito una delle due maniche l'altra l'ho lasciata volutamente aperta o attaccato lo sbiecchino adesso doveva attaccare a macchina vi farò un video per farvi vedere come è stata con lo sbiecchino a mano e non con il piedino apposito e poi ho fatto l'ho fatto io nella nel modello non esisteva ho fatto una creato proprio da me un motivo a goccia sulla parte del dietro e ho fatto la paramontura che ho rifinito con la taglia e cuci nel modello originale questo non c'è è tutto rifinito con lo sbiecchino io ho preferito fare così e adesso attacco lo sbiecchino a macchina con un punto e poi continuiamo ora dobbiamo attaccare il volano da questa parte l'ho già attaccato adesso vi faccio vedere come si attacca dall'altra parte quindi ho passato a macchina anche l'altra parte della della spalla come vedete è qua tutto intorno devo attaccare il volano e il volano allora io passo a macchina faccio due filze metto il lago e il punto diciamo al massimo sia in larghezza che in lunghezza e poi faccio due filze mettendo al massimo l'arricciatura della macchina da cucire quindi la tensione la metto al massimo e vedremo che mettendo la tensione al massimo il tessuto si arriccherà quindi questo prometto al massimo è al massimo e qua la tensione la metto a 9 vedete si è tutto arricciato ho fatto la prima filza adesso ne faccio un'altra leggermente più indietro più avanti in effetti dall'orlo ecco parallela molto vicina con cui questa è la seconda filza che ho fatto a macchina quindi è bello come vedete arricciato adesso andiamo ad applicarlo alla maglietta nella parte davanti attaccato come vedete con gli spilli il volano in questo modo quindi verso il dritto della maglietta e lo attaccati con gli spilli facendo combaciare le tacche l'attacca sul davanti poi va tutto a girare l'attacca sul dietro ora devo andare in macchina da cucire e con un punto normale fisso il volano alla maglietta ed ecco qui attaccato anche l'altro quindi dopo che ha attaccato questi due il passo successivo e attaccare i fianchini prendo il fianchino del davanti tolgo tutti i separo le parti le due parti fra di loro con il taglia filo attaccato i due fianchini davanti in questo modo con gli spilli poi dovete imbastire e poi passare a macchina in modo tale che i due fianchini state attende alle tacche cioè tutte le tacche del dell'inizio del fianchino alla fine del fianchino ho attaccato il fianchino sia del davanti da una parte e del davanti dell'altra vedete comprendendo quindi insieme anche il volano di tutto compreso adesso devo attaccare i fianchini del dietro e poi ho attaccato i fianchini dietro sia da una parte che dall'altra faccio il volano adesso devo attaccare la manica ora facciamo le maniche devo togliere tutti gli spilli aprire i fili denti e attaccare le maniche alla maglietta allora attaccato con gli spilli la la manica poi bisogna imbastire dopodiché si passa a mani a macchina questa è la manica ecco qua se il collo quindi attaccato la manica in questo modo in maniera semplice la passo in macchina da cucire dopo che avete passato a ma la macchina e poi in tagli e cuci la manica fate coincidere prima di tutto il la parte diciamo della 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 congiunzione diciamo della manica con la congiunzione del fianco quindi unisco tutto con gli spilli e poi successivamente faccio un imbastitura passo a macchina e poi oppure direttamente in tagli e cuci la stessa cosa la dobbiamo fare anche dall'altra parte ovviamente quindi congiungendo la manica insieme al al fianco fino all'orlo io lo faccio in tagli e cuci rifinisco sia l'orlo e le maniche in tagli e cuci cioè passo in tagli e cuci e poi le rifiniremo insieme vi farò vedere ho rifinito con uno un un orlo invisibile fatti si formeranno queste v rovesciate ecco qua girando leggermente la stoffa dovete girare leggermente la stoffa che abbiamo passato in tagli e cuci e poi farla a mano questo sia l'orlo che poi ho stirato quindi non si vedrà niente vedete proprio l'orlo invisibile proprio invisibile se lo dovete fare se lo fate bene uscirà veramente bellissimo e poi qua ho fatto sia l'orlo invisibile anche nella manica quindi sia di una manica che dell'altra ve la farò vedere prossimamente indossata grazie per aver visto il video ciao a debiri e buon cucito sartoriale creativo e soprattutto terapeutico ciao